Viva Voce, Sport e Salute, conduce Mattia Fontana. Questo programma è offerto da Morris Lacroix, concessionaria per Roma e provincia, gioielleria grande, www.gioielleriagrande.it Benvenuti e bentornati a tutti voi telespettatori, Viva Voce, Sport e Salute, perché lo sport è sinonimo di salute. Benvenuti in questo spazio dedicato come sempre allo sport e alla salute. Oggi in studio con noi abbiamo il dottor Lorenzo Proietti, ortopedico e il grande campione, ginnasta, team gym, con esattezza, Flavio Polizzi. Qualora lo vogliate, il numero in sovraimpressione per interagire con noi. Dottore, entriamo subito negli argomenti. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Grazie anche a Flavio. Grazie a voi. Molto bene. Insomma, dottore, quanti siamo in Italia che soffrono di mal di schiena? Perché poi, in realtà, quando si blocca la schiena non è un movimento smagliato, ma probabilmente c'è dietro qualcos'altro, probabilmente. Assolutamente sì. Diciamo che è una patologia diffusissima, forse tra le patologie ortopediche è quella più diffusa nella popolazione mondiale. Ovviamente il mal di schiena non è dato solo da un movimento errato, quindi il classico, diciamo, raccoglie qualcosa per terra, alzare un peso un pochino esagerato, ma di base c'è sempre una patologia sottostante, che può essere appunto un problema agliello della colonna, come una profusione, un'ernietta, un po' di artrosi. Sì, però perché? Perché? L'alimentazione, forse? Beh, no, ci sono tutta una serie di concause. Sicuramente l'alimentazione influisce sul peso e quindi il peso chiaramente va a influire in maniera importante sul mal di schiena. Ma, diciamo, ci sono tutta un'altra serie di patologie che possono, diciamo, andare a creare un ottimo substrato per poi scatenare il dolore vero e proprio. Sì, 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 bene, bene. Beh, sicuramente gli sportivi magari sono un po' più soggetti, anche un mal di schiena, qualcos'altro anche. Ad esempio, nel loro caso, quali potrebbero essere i traumi più frequenti? Beh, allora, nel caso dei ginnasti abbiamo dei traumi, diciamo, estremamente frequenti a livello degli arti inferiori, quindi tutto ciò che è trauma distorsivi di ginocchio, trauma distorsivi di caviglia, diciamo, nell'atterraggio dei salti sono estremamente frequenti, quindi a livello del ginocchio abbiamo il classico legamento crociato, i classici traumi meniscali, a livello della caviglia possiamo avere queste distorsioni di caviglia, appunto, estremamente frequenti. Sì, diciamo che lo sport, sì, lo sport deve essere anche eseguito in modo equilibrato, perché non si può esagerare. E lei è sportivo, dottore? Abbastanza. Abbastanza, bene, insomma, già essere sportivi abbastanza è già qualcosa. Flavio, insomma, questo sport è bellissimo, questo intanto è uno sport molto spettacolare, perché fate delle girovolte in alto, quanto riuscite ad alzarvi da terra, più o meno? Con l'attrezzo che spinge di più, diciamo, che è il mini trampolino, arriviamo anche sui 5 metri, 5 metri, 5 metri, 5 metri, 5 metri, ho provato a salire su un trampolino, da 5 metri, ho detto, è meglio che scendo. Quindi quando scendete poi deve essere qualcosa di... Beh, diciamo, non hai molto tempo per vedere l'altezza, l'altezza in aria, però... Sì, 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 diciamo che voi siete un po' più a rischio per le caviglie e le ginocchia, probabilmente. Assolutamente. Che volte magari quando si cade un po' in modo non corretto. Senti, cos'è il team gym? Questo qui è uno sport fantastico, fantastico. Sì, assolutamente. Il team gym è uno sport che è nato nei paesi scandinavi, intorno agli anni 70. Piano piano si è iniziato a diffondere, hanno fatto la prima competizione nel 1996 in Finlandia e piano piano è iniziato a diffondersi per l'Europa. Non è ancora molto sviluppato, ma è una disciplina appunto meravigliosa, della famiglia della ginnastica. Molto puramente acrobatica. È uno sport di squadra dove appunto la squadra è fondamentale, il tifo si sente molto durante le competizioni, è famoso proprio per la sua atmosfera, il team gym. Anche i tifosi di una squadra fanno il tifo per tutte le altre squadre perché è così coinvolgente. Perché è coinvolgente, sì, è spettacolare come dico io, insomma. Senti, lì ci sono, avete tre discipline. Esattamente, durante le competizioni facciamo questi tre attrezzi diciamo, che sono appunto il mini trampolino come citato prima, che è praticamente il mini trampolino che si utilizza nell'artistica come propedeutica per imparare dei nuovi elementi. E noi invece lo utilizziamo appunto come attrezzo di gara con una rincorsa di 25 metri. Dovete fare una rincorsa di 25 metri. Massimo 25 metri. Poi c'è una battuta appunto sul trampolino che ti porta abbastanza in alto, soprattutto ad alti livelli. E successivamente l'arrivo è su un tappeto che in palestra è morbido, sono dei tappeti un pochettino più per salvaguardare gli atleti durante gli allenamenti, in gara sono più rigidi. Spacciamo tre round al trampolino durante la competizione, uno di questi round, quindi tre salti, uno di questi è con la tavola del volteggio anche, dove si vanno a appoggiare le mani dopo la battuta del trampolino e si effettua comunque un'evoluzione. Fantastico, sì. Esatto. Successivamente abbiamo il tumbling, che è praticamente diciamo, possiamo paragonarlo al corpo libero della ginnastica artistica, però è solamente una striscia facilitante che è lunga 15 metri, hai prima 16 metri di rincorsa e anche qui si effettua. E' bello perché poi lì c'è una squadra intera. Assolutamente, si salta in successione sei persone una dopo l'altra. La squadra è composta da massimo dieci persone, però sugli attrezzi si salta nei campionati europei in sei persone uno dietro l'altro. Ah bello, bello, bello. Esatto. Sì, però dico, ma come vengono poi i punteggi, come vengono calcolati? Allora il punteggio è particolare. Quando si scende a terra bisogna stare fermi oppure no? Allora diciamo che... Sono dei dettagli, questi che contano. Assolutamente, nella ginnastica artistica è molto minuzioso quel discorso, nel team gym è un pochettino, più duttile diciamo, in quanto essendo appunto si salta in sei uno dopo l'altro, perciò appena arriva una persona c'è l'atleta successivo che sta già saltando, perciò deve controllare l'arrivo del salto, far vedere ai giudici che è controllato, ma poi deve subito spostarsi perché l'atleta successivo sta saltando. Certo. E il punteggio, c'è un punteggio di esecuzione che sono dieci punti da cui i giudici detraggono il punteggio in base alle penalità che puoi ricevere, tra cui anche la caduta. E poi c'è un punteggio di composizione, che è una cosa diciamo un po' più tecnica, è un punteggio di difficoltà che è proprio la difficoltà dell'elemento. Sì, sì, perché i salti sembrano tutti uguali, però non è proprio così. Sì, assolutamente. Non è facile capirlo, però... Sì, ma quando arrivate nell'atleta il volteggio poi non vi gira un po' la testa, no? Eh, capita, capita. Che l'ossigenazione diventa un po' non precaria, però insomma un po' di difficoltà la puoi avere. Ma spostiamoci ancora sull'ortopedia. Insomma, dottore, noi dobbiamo la prevenzione, cosa dobbiamo fare? Qualsiasi cosa, ogni medico che viene c'è la prevenzione. No, ne dobbiamo fare i tagliandi ogni giorno, si può dire, o quasi. La prevenzione rispetto all'ortopedia, che cosa si valuta prevalentemente? Allora, la prevenzione all'ortopedia è un argomento molto ampio, chiaramente. Diciamo, per quanto riguarda, come stavamo dicendo prima, tutto ciò che concerne lombalgie, diciamo, anche patologie di tipo artrosico degli arti inferiori, sicuramente una prevenzione adeguata è un buon mantenimento del peso corporeo, così da gravare meno, chiaramente, sulle articolazioni e sulla colonna, e un'attività fisica moderata, cioè un'attività fisica leggera, che permette di mantenere un buon tono muscolare, una buona elasticità, un buon stretching, che quindi, diciamo, permettono di prevenire eventuali traumi e eventuali sovraccarichi di poi tutti i sistemi articolari. Quindi, nella prevenzione si può avvertire magari qualche malfunzionamento di una parte. Assolutamente sì. Quindi, si poi possono anche effettuare le infiltrazioni. Ma, sì, scusi, finisco la domanda. L'infiltrazione, ma i medicinali delle infiltrazioni sono tutti uguali? Assolutamente no. Oppure, ecco, sono diversi? Assolutamente no, perché, diciamo, le infiltrazioni in ortopedia è un argomento ampissimo, proprio perché i medicinali che noi infiltriamo sono totalmente diversi l'uno dall'altro. Si parte dalla base, che è il classico cortisone, che è, diciamo, un anti-infiammatorio estremamente efficace, estremamente importante, che serve solo a sfiammare, diciamo, l'articolazione, nel caso in cui l'articolazione è molto infiammata, per poi passare all'acido ialuronico, come si sia anche questo estremamente utilizzato. E anche per la parte estetica. Anche per la parte estetica, noi lo utilizziamo invece per andare a dare una visco-supplementazione, si dice, alle articolazioni, cioè andare a lubrificare un pochino queste articolazioni nel momento in cui iniziano a diventare un pochino più artrosiche. Poi abbiamo le infiltrazioni di PRP, che è, diciamo, i derivati di cellule del sangue, quindi del plasma, e poi abbiamo le cellule staminali. Quindi, a seconda del tipo di patologia, abbiamo un ventaglio di opzioni terapeutiche. Assolutamente sì. Bene, bene, molto bene. Senta, ma secondo lei, dottore, l'alimentazione non del tutto corretta, non può creare delle infiammazioni, ad esempio alle articolazioni, anche? Allora, lì si entra in un ambito, diciamo, anche dal punto di vista di tipo reumatologico, chiaramente, perché ci sono degli alimenti, chiaramente, che sono pro-infiammatori e quindi, diciamo, possono andare a dare delle infiammazioni generalizzate, alzire, diciamo, a tutto l'organismo, tra cui anche il sistema muscolo-scheletrico. Sì, sì, sì. Lei come è messo con l'alimentazione? Eh, insomma. Ci piace mangiare. Le articolazioni funzionano. O il calzolare va in giro con le scarpe rotte, come si usa a dire. Magari, sì, sì, insomma, che lei farà la prevenzione, no? Qualche realtà. Assolutamente. Cerchiamo di tenerci un po' in forma. Bene, bene, bene. Facciamo ancora in tempo, prima di andare in pubblicità, lussazione della spalla. Che cosa vuol dire lussazione? Perché non lo sapesse? Lussazione, diciamo, è un evento traumatico dove, diciamo, si perde la stabilità articolare di una determinata articolazione. Quando si parla della spalla è la fuoriuscita dell'omero dalla sua, diciamo, articolazione, quindi la componente glenodea. Questa è questa zona. La testa dell'omero. La testa dell'omero. Esatto, dalla glena. È sempre un evento post-traumatico. Sempre. È sempre un trauma. Assolutamente, ci deve essere, nei primi episodi, un trauma. Poi, diciamo, dal secondo, terzo, quarto episodio dell'ussazione può avvenire anche in maniera quasi spontanea. Cioè, diciamo, la capsula articolare viene, diciamo, slabbrata, viene, diciamo, non è più continente e quindi anche per movimenti banali, pensiamo alla retromarcia quando andiamo a mettere la mano dietro, può provocare una lussazione di spalla. Certo, certo. Quindi la lussazione, però niente di grame, insomma. Eh, dipende da quante lussazioni si hanno. Diciamo, quando diventa una lussazione recidivante c'è sicuramente l'indicazione a operarla e a andarla a stabilizzare in maniera chirurgica. Ma tutto si risolve oggi. Eh, tutto si risolve. Molto bene. Adesso lasciamo lo spazio, amici di Viva Voce, Sport e Salute. Non andate via, tra poco. Di nuovo in studio, di nuovo insieme, amici di Viva Voce, Sport e Salute e amici di Radio Roma News. Molto bene, spostiamoci sullo sport. Come si è messo con l'alimentazione? Parlando di alimentazione. Diciamo che cerchiamo di seguirla il più possibile. E poi è importante per voi, perché più siete leggeri, non è sempre facilissimo, però ci si prova. Parliamo di allenamenti, preparazione fisica e preparazione atletica. Che cosa succede fisica e atletica? Allora, assolutamente fondamentali dal punto di vista della preparazione atletica, appunto, avendo due dei tre attrezzi con una buona componente di rincorsa, la preparazione atletica è fondamentale, quindi il saper correre, il saper sviluppare velocità orizzontale che poi verrà trasferita in velocità verticale dopo il contatto con l'attrezzo. È proprio alla base, ovviamente. Allo stesso tempo la preparazione fisica, quindi lo sviluppo muscolare, cerchiamo sempre anche con gli atleti che alleno, atleti sia agonistici che anche leggermente di livello inferiore, cerchiamo di fare una programmazione anche con sovraccarichi che porti piano piano allo sviluppo di una forza. Lo squat, ad esempio. Esatto, uno squat con sovraccarico. Durante, diciamo, abbiamo delle competizioni target, durante questo periodo che intervalla tra una competizione e l'altra cerchiamo di fare una programmazione con i sovraccarichi che poi cerchiamo di sviluppare forza per poi farla diventare una forza esplosiva che è quella che occorre a noi, diciamo, quindi l'esplosibilità. Sì, ma gli allenamenti vanno eseguiti tutti i giorni? Non è un po' troppo perché c'è anche un po' la compensazione? Assolutamente. Allora, dipende ovviamente dal livello tecnico. Diciamo che gli atleti che alleno io di interesse nazionale si allenano cinque volte a settimana, tre ore al giorno, ma ovviamente non è che ogni giorno eseguono il massimo del loro livello tecnico. Quello succederà una massimo o due volte a settimana, dipende anche dal periodo in base alla competizione. Solitamente si fa più tanto lavoro di base perché la base è fondamentale e ti aiuta in tutto anche a salvarti in situazioni poco piacevoli in aria se dovesse succedere qualcosa e lavoro di prevenzione anche articolare assolutamente. Mi anticipo un po' le domande. Sicurezza e prevenzione in fortuna. Assolutamente fondamentali appunto. Il nostro è uno sport molto impattante appunto arriviamo ad altezze considerevoli anche sul terzo attrezzo che non abbiamo citato prima che è il floro una coreografia a terra su una superficie non rimbalzante e quindi l'impatto è praticamente come se fosse il pavimento diciamo. Eseviamo salti acrobatici anche lì e quindi la prevenzione specialmente su articolazione come appunto ginocchia e caviglie è fondamentale. Ci sono squadre sia maschili sia femminili? E anche miste. Anche miste. Maschili, femminili e miste. Esatto. Nel campionato europeo che è la massima competizione del nostro sport ora come ora le squadre sono composte da dieci persone possono essere maschili femminili o miste quindi cinque maschi e cinque femmine e sugli attrezzi in cui si salta in ondata quindi il thumbling e il trampolino nelle squadre miste si salta sempre tre maschi e tre femmine. Non ci sono differenze tra uomo e donna rispetto alla prestazione? Allora solitamente le donne proprio per un discorso di forza fisica spesso e volentieri hanno un livello tecnico leggermente inferiore agli uomini ma non è detto ovviamente però nel massimo livello del team gym le squadre senior maschili portano valori di difficoltà superiori rispetto alle senior femminili ovviamente però comunque portano un lavoro assolutamente di grande rispetto. Senti tu ti sei spaccato qualcosa qualche volta le ginocchia ad esempio? No dunque le caviglie sono state molto colpite con varie distorsioni non eccessivamente gravi la caduta deve essere importante anche nel molleggio assolutamente dobbiamo imparare ad ammortizzare gli arrivi ogni tanto capitano degli arrivi scarsi li chiamiamo in cui la caviglia soffre un po' io ho giusto subito uno strappo alla zampa d'oca anni fa uno strappo doloroso però insomma esatto si può operare lo strappo? no o si? Beh solitamente no si tratta in maniera conservativa quindi un po' di fisioterapia però le ginocchia si possono cambiare le protesi del ginocchio? Le ginocchia si possono cambiare in un diciamo quando la patologia artrosica diventa invalidante diventa importante e diciamo il paziente non è più soddisfatto della qualità di vita che le garantiscono le proprie ginocchia a quel punto una vita normale tra virgolette esatto qualità di vita normale e a quel punto si può andare incontro all'intervento di protesi di ginocchio però oggi voglio dire le operazioni sono molto più leggeri rispetto ad anni fa anche perché la tecnologia è avanzata abbastanza rispetto anche è migliorata tantissimo sia l'impianto protesico quindi il design dell'impianto protesico sia il diciamo l'atteggiamento dell'anestesiologico quindi abbiamo delle anestesie che sono più specifiche durano molto di più permettono al paziente di camminare praticamente in prima seconda giornata postoperatoria infatti chiedevo quanto tempo ci si impiega per recuperare? eh diciamo stiamo cercando proprio di far recuperare il paziente il prima possibile quanto dura un'operazione? si può fare dei ospiti in un giorno? la protesica no diciamo la protesica necessita comunque di due tre giorni di ricopero ma il paziente la cosa fondamentale è che dal primo giorno sta in piedi quindi lo mettiamo in piedi anzi è proprio un obiettivo 20 anni fa non era proprio così non era assolutamente così doveva stare 10 giorni in ospedale esatto non era assolutamente così invece d'oggi vediamo il paziente già in prima giornata poche ore dall'intervento siamo diventati dei pezzi di ricambio eh più o meno anche per la spalla credo dottore la mano questa è una domanda che le faccio sovente molto complessa quante persone soffrono di patologie della mano tantissime chiaramente sta diventando sempre più diciamo frequente anche per l'utilizzo degli smartphone che chiaramente sovraccaricano tantissimo continuo le articolazioni della mano esatto mouse, tastiera smartphone quindi diciamo stiamo sovraccaricando tantissimo le articolazioni della mano quindi patologie diciamo estremamente frequenti che possono essere il dito a scatto piuttosto che tendiniti della mano quindi patologie infiammatorie della mano tunnel carpale stanno diventando sempre più frequenti di queste patologie sono più gli uomini o le donne? ma diciamo distribuito un 50 e 50 alcune patologie di tipo artrosi sono leggermente più frequenti nel sesso femminile ma comunque diciamo proprio per il sovraccarico che gli stiamo dando nell'ultimo periodo con le nuove tecnologie diciamo sono ampiamente distribuite in tutta la popolazione quali sono le diciamo le complicanze che si va incontro rispetto a tutte le articolazioni le mani i piedi le caviglie le spalle quali sono un po' più soggetto quelle più a rischio? eh diciamo con l'invecchiare della popolazione generale la patologia artrosica è chiaramente quella più frequente in ambito ortopedico quindi artrosi di ginocchio artrosi dell'anca artrosi del tratto lombosacrale sono diciamo le patologie che stanno diventando veramente sempre più frequenti all'interno della popolazione generale il colpo di frusta si può parlare anche di questo nell'ortopedia si? come no il colpo di frusta è tipico diciamo dei tamponamenti del quando insomma purtroppo andiamo incontro incidenti però dicono il colpo di frusta ti può rimanere anche negli anni oppure no oggi diciamo il colpo di frusta sarebbe una cervicalgia post-traumatica come diciamo il termine più specifico e diciamo viene a seguito di un trama del tratto cervicale la durata anche in questo caso dipende dal substrato di magari artrosi se qualcuno già soffriva di cervicalgie io anni fa un colpo di frusta l'ho preso in un incidente per un po' di tempo e a volte anche oggi esatto perché magari può portare un po' di giramento di testa può portare a piccole protrusioni oppure se ci sta già una componente mare degenerativa della colonna chiaramente dura molto di più rispetto a una persona che magari non ne soffriva più bisogna avere cura del proprio corpo comunque insomma che tutto funziona bene come dico sempre spostiamoci ancora su Flavio Flavio abbiamo ancora qualche minuto insomma tu sei un allenatore e atleta contemporaneamente ma chi te la fa fare a volte si dice no? senti da allenatore come funziona? nel senso che i tuoi i tuoi atleti tutti i giorni li devi seguire tutti i santi giorni? assolutamente sì io lavoro in una società qui a Roma la mini gym al Foro Italico e all'interno appunto abbiamo un paio di corsi di team gym quello più avanzato quello leggermente più basso di livello ma da lunedì al venerdì tutti i giorni in palestra poi l'allenatore ha anche un po' il ruolo un punto di differimento che magari qualcuno va giù di morale magari dice non ce la posso fare tu lo devi spronare il ruolo diciamo pedagogico è fondamentale rapportarsi con l'allievo anche perché deve avere molta fiducia di te perché tu stai in assistenza ai suoi salti quindi si deve poter senti per quanto tempo conti ancora di gareggiare tu? allora diciamo che adesso a ottobre parteciperò all'europeo che sarà a Bago in Azerbaijan e sarà il mio terzo europeo e penso l'ultimo da atleta non è che dopo rosichi un po' che non puoi più gareggiare? gareggerò in campione italiano perché quello fino a che le gambe reggono è un divertimento una passione però mi dedicherò ai miei atleti senti siamo ancora in tempo come approggiare ad un nuovo elemento tecnico il gesto tecnico il gesto certo allora sicuramente approcciare a nuovi elementi tecnici non è assolutamente facile diciamo che la tecnica maggiormente utilizzata è la scomposizione dell'elemento nelle varie parti nelle varie fasi che lo compongono quindi far studiare all'atleta le varie fasi in più situazioni possibili quindi variando le altezze le superfici eccetera e successivamente rimettendo tutto insieme provando l'elemento completo spesso ad esempio come parlava il dottore di colpi di frusta capita negli esercizi di impostazioni perché magari facciamo dei tappeti alti un metro e mezzo due metri di tappeti col trampolino salti arrivando sopra i tappeti per migliorare le altezze e se arrivi seduto col collo magari non intenuto eccetera è capace che magari il coppo di frusta ti viene siamo quasi in chiusura la gara più importante che hai fatto è che ti è rimasto più nel cuore perché qui ne abbiamo un po' nel 2021 e nel 2022 il quarto posto era a 5 centesimi dal podio insomma assolutamente a Lignano Sabbiadoro a Lignano Sabbiadoro è stato il primo campionato del centro Europa quindi il primo campionato europeo solo del centro Europa è stato fatto qua in Italia con la squadra societaria con la mini gym siamo arrivati quarti a mezzo decimo dal podio veramente pochissimo però diciamo che il ricordo per ora l'esperienza migliore è stato il primo europeo in Portogallo a Guimaraes dove siamo arrivati terzi è stata la prima medaglia italiana nel mondo del team gym doveva essere nel 2020 ma con il covid l'hanno spostato nel 2021 noi diamo spazio come vedi a di sport tra virgolette minori non inferiore vi ringraziamo tantissimo per questo perché è uno sport poco sviluppato in qualche modo poco calcio poco calcio anzi tutto il resto sta iniziando piano piano essendo entrato in federazione da qualche anno sta iniziando a svilupparsi anche qualche società d'artistica inizia ad approcciare al team gym ma ancora è poco sviluppato infatti vi ringrazio tanto per questa occasione per farlo conoscere insomma abbiamo creato questo format proprio per dare spazio a tutti voi dottore peccato di diventare un po' anziani bisogna poi senti queste cose e ti si finisce sempre voglia sì sì dottore un consiglio suggerimenti che siamo in chiusura che cosa suggerisce ai nostri telespettatori la prevenzione ad esempio allora come abbiamo detto prima la prevenzione in ambito ortopedico è fondamentale è fondamentale quando si iniziano ad avvertire i primi diciamo segni e sintomi di qualche patologia ortopedica quindi il primo dolore il primo diciamo movimento che non è più fluido come diciamo in passato rivolgersi subito ad un ortopedico non aspettare che il dolore diventi invalidante la schiena mi raccomando non siete soli siamo tutti in buona compagnia con il mal di schiena perché in Italia sono tantissimi assolutamente sì siamo proprio giunti al termine grazie per aver accettato l'invito per essere stati con noi ma è davvero tutto grazie a tutti voi che ci avete seguiti viva voce sport e salute radio roma news grazie alla prossima puntata viva voce sport e salute ha condotto Mattia Fontana questo programma è stato offerto da Maurice Lacroix concessionaria per Roma e provincia gioielleria grande www.gioielleriagrande.it www.gioielleriagrande.it